Generale, guarda qua Lisonzo, Lisonzo con la calura, guarda che roba, tutti al mare sono qua, tutti che si tuffano, è Lisonzo questo, è Lisonzo con il caldo, guarda che bel colore che ha però, mamma mia, qua c'è Lisonzo e Borizia, raggiù in fondo, oggi c'erano i poliziotti che domandavano documenti a spiano, proprio a piano, mamma mia, questi turisti che arrivavano e domandavano documenti, smigli da che Borizia sia quasi una dittatura, che ne so io, mamma mia, mamma che roba, Borizia, chiuso le stazioni e questi messi lì, bombo, questa è la nuova regola, probabilmente, anche questi turisti si ricorderanno, caro generale, va bene, allora, niente, un saluto, il calvario, vi faccio vedere un attimo Borizia, tanto verde, perché piove, somiglia che, sai, due giorni fa caldo, e dopo, e dopo somiglia che sia il caldo più forte del, del mese, e lì dopo sarà di luglio, il più, il più caldo, il più caldo di tutti i tempi mai registrati, ma io ho registrato che c'era anche 42, 43 gradi a Borizia, mi ricordo, dieci anni fa, ecco, e c'ho i filmati, bombo, ti saluto generale, arrivo col caldo, ciao bellezza! Grazie!